Visto a caldo qui per le ragazze della Rosetta, abbiamo Tombesi sulla sinistra e Scalambretti, estremo difensore sulla destra. Comunque tre punti importantissimi, la gara tosta, l'avete giustita bene, un bel 2-0 che vi porta fuori dalla zona play-out. Come l'avete vista qui dal campo? All'inizio ci abbiamo messo un po' per carburare, loro sono state un po' più pericolose, sono arrivati un po' più di diri poi, abbiamo preso le misure. E' stata una partita più, non tranquilla, però sono state meno pericolose nella nostra porta. Una vittoria che ci serviva, sia da morale che da classifica, mercoledì ci aspetta un'altra partita importante, uno scontro diretto con il Frosinone. Prepareremo al meglio la gara per portare a casa altri tre punti. Questo è il miglior passo per arrivare bene alla gara con il Frosinone, che sarà probabilmente decisiva, visto che la gara da recuperare sarebbero tre punti d'oro per alleggerle un po' questa pressione. Tre punti fondamentali per cercare di salvarci dal play-out. Esatto, comunque appunto in qualche modo, con un po' di fatica forse è arrivata questa vittoria, avete avuto delle occasioni anche loro, tu ci hai messo del tuo, tante belle parate. Tutte sono state tutte brave. Esatto, sì sì, sicuramente, però sofferta ma meritata. Sì sì, molto faricosa, con una rosa molto corta, ha dato degli infortuni, un po' di problemi, però ce la capiremo fino alla fine. Veramente, tre punti d'oro, bottino pieno, andate a casa felici comunque. Assolutamente sì. Ci vediamo alla prossima, complimenti e grazie mille. Grazie, grazie.